Si è svolto ieri alle ore 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bobillernica un particolare e suggestivo concerto vocale strumentale dal titolo Voci Sparse. Ancora una volta dopo il successo del recente evento L'orgoglio di essere donne, svoltosi qualche settimana fa nel Borgo, il sindaco Perciballi con il consigliere Bocconi hanno condiviso di nuovo questo bellissimo progetto culturale presentato dal direttore artistico Katia Sacchetti per offrire all'uditore qualcosa di diverso e nuovo che va al di là del solito concerto natalizio. La varietà dei cori ha permesso al pubblico il sublime ascolto dei diversi repertori e dei diversi organici che ogni coro ha presentato. Ospiti della serata la cappella musicale San Michele Arcangelo di Valle Corsa, diretta dal maestro Michele Colandrea, il coro vocale strumentale Butterfly del maestro Cesare Buccitti di Colleferro e il meraviglioso coro di Voci Bianche e Lieta Armonia, sotto la direzione del maestro Katia Sacchetti. Il tutto è stato intervallato dallo spettacolo dell'attore Amedeo di Sora, Un altro Natale. Al centro dell'evento la poesia di autori italiani e stranieri che variamente e significativamente hanno celebrato il Natale con i loro versi e che hanno avuto come contraltare e completamento alcune musiche di ispirazione natalizia eseguite dal vivo dalla chitarra del maestro Stefano Spallotta. Un'atmosfera magica fatta di musica e poesia, una platea folta ed attenta, a cui ha fatto da teatro la splendida cornice della chiesa. musica Grazie a tutti.